Che il Signore, l'Onnipotente, il nostro Dio, il nostro Creatore proprietario, stia con tutti noi oggi, stia anche con tutti voi e vi benedica grandemente. Vi saluto con tanto affetto anche quest'oggi. Siamo qui di nuovo riuniti. Questo è il nostro appuntamento che abbiamo la domenica per dilettarci nella parola del Signore, per dilettarci in Lui, per analizzare la Sua parola, la parola di Dio. La parola di Dio scritta, sì, da uomini, ma ispirati dallo Spirito Santo. Uomini di Dio, nei quali lo Spirito Santo si è posato per parlare, per parlare del passato, del presente e del futuro, per parlare anche a noi oggi. Ecco perché noi ci dilettiamo quando leggiamo la Bibbia. ci dilettiamo quando lo Spirito Santo si manifesta nella nostra vita e ci incita, ci spinge ad andare avanti con entusiasmo, con allegria nel nostro essere. Perciò, oggi, come sempre, siamo felici. Siamo felici e contenti perché dedicheremo al Signore quest'ora e mezza con tutto il nostro cuore, lasciando i problemi da parte, lasciando le afflizioni, le tristezze da parte, rallegrandoci invece nel Signore, con Dio, perché ricordatevi che il Signore è l'unico che può risolvere tutte le difficoltà, tutti i problemi, tutto quello che l'essere umano non riesce a risolvere. Adesso potete sedervi dove vi trovate. Saluto anche i fratelli che sono qui di fronte a me. Vi do il benvenuto, miei cari fratelli e sorelle, e vi saluto con tanto affetto. E adesso cantiamo al Signore con tutto il nostro cuore l'inno numero 202 che si intitola Per anni la mia anima ha vissuto nella vanità. Significa che noi, prima di conoscere questo cammino, prima di convertirci al cammino del Signore, vivevamo in credenze, in superstizioni, vivevamo nell'idolatria, credendo in statue, immagini, credendo in dipinti. Bene, sì, credevamo in tante cose. Credevamo in tanti dei. Quindi eravamo idolatri, così vivevamo prima. Questo è chiamato vanità. Tutta l'idolatria è chiamata vanità nella Bibbia. Ecco perché dice questo inno, la mia anima ha vissuto per tanti anni nella vanità, cioè in tutte quelle credenze, nell'idolatria, mentre adesso vivo per Cristo, per Dio. Inno numero 202. Años mi alma in vanidad vivio, ignorando a quien por mí sufrió, oh, che nel calvario sucumbio, il salvatore. Il salvatore. Mi alma in divina grazia io, Dio. Allì perdone paz me dio, del peccato allì me liberto, il salvatore. Il salvatore. Per la Bibbia miro che peccato, e su lei divina chebrante. mi alma in divina grazia io, Dio. Dio. Allì perdone paz me dio, del peccato allì me liberto, il salvatore. Dio. Dio. Allù mi alma Cristo, già ho entregato, ho voglio e servo come al rei. Por los siglos siempre cantare al Salvador Mi alma allí divina, gracia allò Dios allí perdone paz me dio Del peccato allí me libertò El Salvador En la cruz su amor Dios demostró Y de gracia al hombre revistió Cuando por nosotros entregó El Salvador Mi alma allí divina, gracia allò Dios allí perdone paz me dio Del peccato allí me libertò El Salvador Benedetto il nome del Signore, ringraziamo Dio per questa opportunità meravigliosa di essere qui nuovamente oggi con Lui, alla presenza di Dio. E oggi rallegreremo il nostro cuore, la nostra anima e allodare anche il Signore con la lettura della parola del Signore. Questi insegnamenti non devono essere solamente teorie, devono essere messi anche in pratica. Tutto quello che il Signore ci ordina, tutto quello che il Signore ci comanda di fare. E così noi lo gradiremo. Così noi lo compiaceremo. Perché Lui è l'unico che ci può aiutare a risolvere tutti i problemi, tutti i conflitti che si presentano nella nostra vita. In tutti i paesi del mondo noi vediamo guerre, vediamo difficoltà, tante tribulazioni, tanti problemi, sì, e difficoltà a livello mondiale. E tutto questo si risolve con un Dio potente. E quando noi abbiamo Dio nella nostra vita, allora noi vivremo in un modo pacifico. Ma senza Dio è impossibile vivere in modo pacifico. Infatti l'essere umano, solamente con la propria intelligenza, solamente con i propri studi e capacità e anche preparazione intellettuale, non può risolvere tutti i problemi, per esempio, di una nazione, di uno stato, di un paese. No! L'essere umano non riesce, perché è Dio l'unico che può aiutare. Lui è l'unico che può dare sostegno. Ecco perché bisogna invocare questo Dio vero, questo Dio che è uno spirito, che è una verità. Proprio come lo ha insegnato il Signore Gesù Cristo quando insegnò la donna samaritana, dicendole che sarebbe arrivato il giorno in cui il Signore non si sarebbe più cercato nel Tempio di Gerusalemme, né nel Tempio che stava in Samaria. Le disse, né qui né in Samaria si cercherà il Signore. Arriverà il tempo in cui Dio si dovrà cercarlo in spirito e in verità, perché Dio è uno spirito. E così noi crediamo che sia. Noi infatti, in tutto questo periodo, dal momento in cui abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo sperimentato che Dio è uno spirito. E noi lo crediamo così, perché Lui è dappertutto. Ovunque noi siamo, possiamo invocare il Signore con il cuore e con l'anima. E Dio vede, vede tutto questo, vede l'umanità, vede i Suoi figli, vede quello che fa l'umanità. E Lui benedice i Suoi figli e vuole che l'umanità lo conosca. Vuole che l'umanità lo rispetti. Lo conosca, sì. Ecco perché noi siamo qui. Noi abbiamo il dovere di farvi conoscere questo cammino, di come noi ci siamo avvicinati a Dio, di come siamo arrivati ad amare il Signore e a ricevere le sue benedizioni. Questo è il nostro dovere affinché tutti voi possiate essere benedetti, affinché i governi possano essere benedetti. Perché ricordatevi che con le guerre e con la violenza non si risolvono i problemi. È solamente con l'amore di Dio che si risolvono i problemi. E conoscendo Dio tutto sarà diverso. Come diceva poc'anzi il fratello Andres, lui ci ha raccontato le testimonianze provenienti da Israele. Infatti noi sappiamo che in Israele c'è un gruppo di fratelli e sorelle che si congregano nella Chiesa del Signore. E loro hanno vissuto tante esperienze meravigliose di come Dio li ha protetti, di come Dio si è preso cura di loro, rivelandogli tante cose che stanno accadendo in Israele. E io credo proprio che la preghiera, la loro preghiera, sia stata molto importante, che sia stata ascoltata da Dio. E infatti Dio ha avuto misericordia proprio di loro. Gloria al Signore. E noi ringraziamo Dio. Noi ci sentiamo felici e privilegiati di avere questo Dio. E oggi continueremo la lettura con Romani, capitolo 10. La Bibbia è tutta interessante, però il libro dei Romani è molto profondo. Quindi oggi continueremo a leggere Romani, capitolo 10. E quando termineremo di leggere la Bibbia, riprenderemo nuovamente la lettura, perché il Signore si manifesterà sempre con cose nuove, perché è così che Dio si manifesta. È così che Lui, tramite lo Spirito Santo, ci rivela alcuni misteri, ma alcuni ce ne lascia per il futuro. E così oggi ci dilettiamo nel Signore, appunto, leggendo la Bibbia. E oggi leggiamo in Romani, sempre in Romani. E riprendiamo, però prima di leggere il capitolo 10, capitolo 9, dal verso 30 al 33, perché questi versi sono il preambolo del capitolo 10. Però prima leggiamo in Romani, capitolo 9, verso 30. Ricordatevi che qui stava parlando l'Apostolo Paolo, stava parlando del popolo di Israele dell'Antichità, stava parlando di quel popolo che Dio aveva scelto. Infatti, Dio voleva un popolo santo, esclusivo, particolare, pieno di santità, pieno di amore verso Dio, di obbedienza verso Dio, nel quale Dio, appunto, si sarebbe potuto manifestare. E Dio avrebbe potuto dimostrare, attraverso quel popolo, il suo potere al mondo. Questo era il primo piano del Signore, un piano che purtroppo non continuò. Infatti, Dio deve cambiare questo piano perché il popolo non riuscì a rispettare i comandamenti, le regole del Signore, perché avevano un cuore ribelle, un cuore duro, un cuore debole. Perciò, il Signore dovette attuare un secondo piano, un piano meraviglioso che iniziò tramite Abramo. E la fede di Abramo, infatti Abramo credette subito al Signore, fece subito la volontà del Signore e grazie a questa fede di Abramo, lui divenne un uomo giusto, un uomo retto. E tramite Abramo, il Signore formò un popolo diverso, non più un popolo come quello di Israele, ma avrebbe formato un nuovo popolo che in futuro lo avrebbe cercato e gli avrebbe ubbidito. E infatti il popolo, quel popolo nuovo, sarebbe stato formato con l'arrivo del Signore Gesù Cristo. Quindi, nel capitolo 9, l'Apostolo Paolo cerca di spiegare tutto questo ai giudei di quell'epoca, cerca di spiegarlo anche al popolo dei gentili, che iniziavano a congregarsi come cristiani, credendo appunto nel Signore Gesù Cristo. Quindi alcuni giudei, alcuni gentili si erano già convertiti al cammino del Signore. Perciò l'Apostolo Paolo si dedicava a loro, predicando la parola del Signore, affinché non dubitassero, affinché potessero rinforzare la decisione che avevano preso e andare avanti, sempre con più forza da lì in poi, per arrivare al Signore. Quindi, l'Apostolo Paolo parla di tutto questo, parla della giustizia che Dio diede ad Abramo, ma quella giustizia che Dio diede ad Abramo la può dare a qualsiasi credente che crede nel Signore Gesù Cristo, che ha fede nel Signore. E quindi il Signore può regalare giustizia e rettitudine per mezzo della fede. Avere fede significa credere in Gesù Cristo come Dio, come l'unico Salvatore. E nel verso 30 dice appunto l'Apostolo Paolo, che diremo dunque che i gentili, che non cercavano la giustizia, ricordiamoci che i gentili erano tutte le altre nazioni confinanti con gli israeliti. I gentili erano appunto tutte le altre nazioni. Loro non erano interessati a cercare un Dio vero, perché loro avevano già le loro credenze appunto, i loro dei. Per questo l'Apostolo dice, i gentili che non cercavano la giustizia, che non cercavano Dio, hanno invece ottenuta la giustizia. Quella giustizia però che deriva dalla fede. Infatti i gentili hanno trovato la giustizia perché si convertirono al Vangelo, ebbero fiducia, ebbero fede nel Signore Gesù Cristo. Ecco perché si dice che i gentili hanno ottenuto la giustizia mediante la fede, quindi mediante credere nel Signore Gesù Cristo come Dio, come il Figlio di Dio, come l'unico cammino che avrebbe portato alla vita eterna. 31. Mentre Israele, che era il popolo prescelto da Dio nell'antichità, per essere un popolo eletto, per essere un popolo che avrebbe dovuto praticare la giustizia e la rettitudine, invece, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non è arrivato alla legge della giustizia. Infatti Israele appunto non arrivò alla giustizia perché non credettero nel Signore Gesù Cristo. Perché? Dice nel 32. Perché la cercava, cercava la giustizia quindi, non mediante la fede. Quindi gli israeliti non cercavano Dio, non cercavano di gradirlo, di compiacerli. Lui, il popolo di Israele, semplicemente cercava di compiere alcuni comandamenti, alcune regole, alcuni ordini che avevano appunto letto nella legge di Mosè. Si limitavano semplicemente a quello, ma nel loro cuore non c'era la fede verso Dio, non c'era l'amore verso Dio, non c'era il desiderio di servire Dio e di vivere una vita santa e retta. Quindi dice, perché la cercava non mediante la fede, ma come se derivasse dalle opere della legge di Mosè. Quindi, come vi ho detto, cercavano solamente di adempiere ad alcuni ordini. Essi, infatti, cioè quegli israeliti, non credendo nel Signore Gesù Cristo, non ottennero la giustizia mediante la fede, ma volevano ottenere la giustizia mediante le opere della legge di Mosè. Poi dice ancora il verso, essi, infatti, hanno urtato nella pietra di Inciampo. Come sta scritto in Isaia, capitolo 28, verso 16, stava scritto questo tramite il profeta Isaia. Ecco, io pongo in Sion, significa che qui il Signore diceva, io pongo in Sion una pietra di Inciampo e una roccia di scandalo. Ma chiunque crede in Lui, in questa pietra di Inciampo, non sarà svergognato. Ma colui che non avrebbe creduto in quella pietra, e quella pietra, ricordiamoci, che è il Signore Gesù Cristo, è il Messia e il Salvatore. Quindi, chiunque avrebbe creduto in Lui, in quella pietra di Inciampo, non sarebbe stato svergognato e non avrebbe perso la salvezza. Mentre chiunque non avrebbe creduto, sarebbe stato svergognato e avrebbe perso la salvezza. E questo è successo al popolo di Israele, perché il popolo di Israele apparentemente compiva la legge di Mosè, ma in realtà non la compirono alla lettera. Ecco perché Dio non diede loro la giustizia, non li giustificò, ma li abbandonò. Qui sta già parlando quindi del Messia, del Salvatore, che sarebbe arrivato in futuro come l'unico cammino che avrebbe portato alla vita eterna. Non c'è un altro Dio, non c'è nessun santo, nessuna santa, che possano salvare l'umanità. Solamente il Signore Gesù Cristo. E Lui non ha bisogno di intermediari, come alcune persone sostengono. Infatti alcune persone cercano degli intermediari, come il santo o la santa. Cercano il santo Filemone, che sicuramente interverrà tra me e Dio, così dicono, e mi aiuterà. E chiederò al santo Filemone di aiutarmi, o a santa Filomena, perché lei mi ascolta, così dicono, allora la santa parlerà a Dio di me. Ma tutto questo è una bugia. Il Signore, infatti Dio ha posto una pietra d'inciampo nel popolo di Israele. Questa pietra d'inciampo fu il Messia, il Redentore, il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, che è venuto più di duemila anni fa. E Dio insegna, in tutta la Bibbia, infatti, che bisogna solamente credere nel Signore Gesù Cristo, perché è l'unico cammino che porta alla vita eterna. E non ci sono intermediari da porre tra noi e Dio, perché noi possiamo dirigerci direttamente a Dio, chiedere a Lui direttamente le cose. E qui l'Apostolo Paolo, quindi, cerca di fare un parallelo tra la legge di Mosè e il popolo di Israele e tutto quello che sarebbe accaduto in futuro. Quindi il popolo di Israele non accettò la salvezza, quella salvezza che si stava offrendo. E l'Apostolo Paolo era triste per questo, perché vedeva appunto i suoi fratelli giudei che non volevano credere al Signore Gesù Cristo, a quella pietra di inciampo. E infatti, il Messia, il Signore Gesù Cristo, è stata una pietra di inciampo per tanti, perché non hanno creduto. Però l'Apostolo Paolo continuò ad insegnare, non si scoraggiò, non si avvilì, avendo in sé la speranza che altri fratelli si sarebbero convertiti al vero cammino per godere della presenza di Dio. Godere della presenza appunto del Signore. Ed è molto bello che questo accada nella vita degli esseri umani. E adesso iniziamo la lettura del capitolo 10. E l'Apostolo continua a dire, fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Quello che abbiamo appena detto, cioè che l'Apostolo Paolo soffriva, si preoccupava per i suoi fratelli israeliti. Quindi lui pregava il Signore per loro, per la loro salvezza. E bisogna continuare a pregare i fratelli, affinché non solamente gli antichi, ma anche tante persone del mondo, israeliti, gentili, tutte le altre nazioni, possano arrivare alla conoscenza di Dio. Quindi noi oggi possiamo pregare per tutta l'umanità, possiamo pregare per le persone di ogni continente, di ogni nazione, affinché possano conoscere e convertirsi a questo Dio meraviglioso e potente. Verso 2 dice ancora l'Apostolo Paolo, rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, non secondo la vera parola di Dio. Quindi dice l'Apostolo Paolo, sì, i miei fratelli israeliti hanno zelo per Dio, ma non secondo la conoscenza di Dio, non secondo la parola di Dio, non secondo il cammino del Signore, perché non conoscevano il Signore, non volevano conoscerlo. Loro pensavano di aver zelo per Dio, di credere nel Signore. In realtà non era così. Perché? Perché non credevano nel Salvatore, nel Signore Gesù Cristo, lo rigettavano. Quindi credevano non per la conoscenza. Avevano zelo, infatti, non per Dio in sé per sé, ma per la loro religione, perché non conoscevano effettivamente Dio. Quindi lo Spirito Santo non era con loro, non insegnava loro il vero cammino. Ecco perché è necessaria la presenza dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio che sono la stessa cosa, o lo Spirito di Cristo è la stessa cosa. È necessario lo Spirito del Signore per comprendere il vero cammino che ci porterà alla vita eterna. E anche noi oggi, proprio come l'Apostolo Paolo lottò con i suoi fratelli giudei, israeliti, pregando per loro, anche noi oggi lottiamo con tante credenze religiose che si presentano in diverse nazioni, lottiamo con tutti gli dei che ci sono in tante nazioni. Quindi noi lottiamo con tutta l'umanità, con tutti quei gruppi religiosi che credono appunto in tanta idolatria. e oggi noi desideriamo che tutte queste nazioni conoscano Dio e noi preghiamo, dobbiamo pregare Dio per questo, affinché tutti possano conoscere la vera dottrina del Signore, la vera parola. E tutta questa viene definita conoscenza, conoscenza di Dio, quella conoscenza che gli israeliti non avevano, quella conoscenza che i giudei non avevano, loro non conoscevano lo Spirito Santo, il cammino di Dio. E così accade anche oggi. Oggi ci sono tante persone che dicono io sono cristiano ma non hanno la conoscenza del Signore, non conoscono pienamente il Signore, cosa bisogna fare per gradirlo, cosa bisogna fare per ereditare la vita eterna, cosa bisogna fare per vivere una vita retta e santa davanti al Signore. Verso 3 dice ancora l'Apostolo Paolo quindi nel 2 dice che gli israeliti erano gelosi della loro religione ma non avevano conoscenza poiché dice il verso 3 ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Quindi gli israeliti volevano stabilire la propria giustizia volevano stabilire il proprio modo di vivere volevano stabilire sì la propria giustizia per rendere la loro vita più facile ma non volevano sottoporsi alla giustizia di Dio. Verso 4 perché il fine della legge è Cristo quindi il fine della legge è Cristo per la giustizia di ognuno che crede e questo è doloroso per alcune persone perché la gente a volte dice come posso io abbandonare la mia religione? No io devo continuare a credere nella mia religione è la mia religione è quella che mi hanno insegnato i miei genitori i miei nonni i miei antenati mi hanno insegnato questa religione me l'hanno inculcata e io devo seguirla ma risulta che quella religione non li salva risulta che quella religione in realtà li condanna mentre quando si conosce un Dio vivo e di potere non ci sono altre religioni che tengano tutto quello che ci hanno detto genitori nonni antenati usanze tradizioni non valgono nulla quando noi incontriamo il Dio vivente noi dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo accettare Dio nella nostra vita perché lo sentiamo anche nella nostra vita lo vediamo nella nostra vita lui si manifesta allora dobbiamo cercare questo Dio vivente e la religione passata rimane un ricordo rimane nel passato perché perché abbiamo trovato un Dio vivente che si manifesta nella nostra vita tutti i giorni si manifesta nei momenti difficili e lui è lì pronto ad aiutarci e continuiamo a leggere quello che l'Apostolo Paolo diceva quindi diceva nel verso 4 perché il fine della legge è Cristo per la giustizia di ognuno che crede quindi tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo che è Dio che è l'inviato di Dio che è Dio stesso che è il cammino che porta la vita eterna che è la verità che è la vita a tutti coloro sarà consegnata la giustizia e la loro religione quella del passato appunto morirà quindi dice il fine della legge è Cristo quindi tutte le altre religioni vengono messe da parte non importa quale religione sia è Dio è Dio che giudica è Lui che esiste e il giorno in cui noi ci presenteremo davanti a Dio in giudizio non ci dirà perché non hai compiuto la legge di Mosè l'hai compiuta cosa hai fatto tramite la legge no il Signore ci dirà perché non hai creduto nell'inviato nel Messia nel Salvatore quando io te l'ho mandato in quell'anno in quel giorno davanti a te perché non gli hai creduto il Signore ci può dire così perché non hai seguito i Suoi cammini perché non mi hai onorato non mi hai lodato in nome Suo questo è quello che Dio dirà nel giorno del giudizio e nessuno potrà dire no no i miei antenati i miei genitori i miei nonni mi hanno insegnato un'altra religione la società stessa la mia famiglia mi ha insegnato un'altra cosa e se io smettevo di credere in quella religione loro mi prendevano in giro ma al Signore non importa questo il Signore salverà i Suoi seguaci i seguaci del Suo Vangelo i seguaci del Signore Gesù Cristo ecco il Signore terrà conto di questo perché il Signore ha sempre insegnato attraverso lo Spirito Santo da duemila anni a questa parte e quindi il Signore giudicherà secondo tutto questo verso numero 5 dice ancora l'Apostolo Paolo Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge di Mosè dice così l'uomo che fa quelle cose significa l'uomo che compirà tutta la legge di Mosè tutti i comandamenti alla lettera vivrà per esse cioè grazie ad esse otterrà la vita eterna se compie tutti i comandamenti alla lettera ma siccome nessuno riuscì a compiere la legge di Mosè totalmente fino a quando arrivò il Signore Gesù Cristo lui si la compie la lettera nessuno però riuscì a compiere tutta la legge di Mosè ma il Signore già lo sapeva e infatti diceva guardando verso l'umanità nessuno sta compiendo la legge di Mosè e se vanno avanti così tutti saranno destituiti dalla mia presenza dalla mia gloria ecco perché il Signore Gesù Cristo interviene immediatamente perché ebbe misericordia dell'umanità quindi il verso 5 ci dice che la giustizia proviene da Dio quella giustizia sarebbe provenuta dalla legge di Mosè se l'avessero compiuta la lettera ma siccome nessuno è riuscito a compierla allora il Signore Gesù Cristo ha annullato quella legge l'ha annullata per iniziare tramite la croce del Calvario un nuovo metodo di salvezza infatti si dice che Gesù Cristo annullò la legge sulla croce del Calvario dicendo alle persone da adesso in poi voi otterrete la vita eterna non tramite la legge di Mosè ma nel credere nel Signore Gesù Cristo e compiere le sue opere e vedrete che lo Spirito Santo vi insegnerà da oggi in poi a come comportarvi a come compiere i comandamenti perché i comandamenti dalla legge di Mosè continueranno ad essere vigenti continueranno ad esistere nei cuori di uomini e donne convertiti a Dio e in quel momento lo Spirito Santo entra nei cuori di uomini e donne che vogliono credere nel Signore Gesù Cristo e nel credere lo Spirito Santo entra ancora di più nei cuori e comincia ad aiutare ad aiutare le persone a compiere i comandamenti ecco perché si dice che quando lo Spirito Santo entra nei nostri cuori noi è come se ci circoncidiamo nel cuore quella è la vera circoncisione perché perché da quel momento in poi il Signore comincia ad operare nel cuore delle persone e le persone cominciano a comportarsi a fare opere buone nei confronti del Signore e questo lo fa il Vangelo del Signore Gesù Cristo questo è quello che succede con la vera circoncisione quindi la vera circoncisione è nel cuore è un nuovo metodo di salvezza perché nell'antichità fu molto difficile compiere la legge di Mosè perciò il Signore decide di inviare il Signore Gesù Cristo e lo Spirito Santo per aiutarci per darci un nuovo metodo di salvezza per ottenere la vita eterna però il Signore ci dice anche guardate che dovete ottenere lo Spirito Santo nella vostra vita altrimenti continuerete a peccare come i vostri antenati ecco perché è importante che noi otteniamo lo Spirito Santo è importante che noi sappiamo cosa dobbiamo fare per gradire lo Spirito Santo per ricevere lo Spirito Santo per ricevere lo Spirito di Dio nel nostro cuore e poi Lui di conseguenza ci trasforma ci perfeziona ci circoncide e noi smettiamo di peccare smettiamo di offendere Dio e cominciamo a camminare nella via verso la vita eterna questo è quello che fa il Signore e questo è il vero cammino che Dio ha posto come nuovo metodo di salvezza poi dice nel verso numero 6 dice ancora l'Apostolo ma la giustizia invece che proviene dalla fede dice così quindi se noi crediamo nel Signore Gesù Cristo accade questo quindi la giustizia che proviene dalla fede cioè dal credere nel Signore Gesù Cristo dice così non dire in cuor tuo chi salirà in cielo questo significa farne discendere Cristo ovvero oppure si può dire chi scenderà nell'abisso questo significa far risalire Cristo dai morti significa che non dobbiamo dire che Gesù Cristo è lontano da me e diciamo com'è che posso fare a far scendere il Signore dal cielo ed entrare nella mia vita oppure se il Signore è nell'abisso come posso farlo salire dall'abisso e stare con me nella mia vita nel mio cuore se Dio è così lontano ma non è così anzi noi non dobbiamo né pensare né dire questa cosa perché non è così io adesso leggo letteralmente i versi verso 6 non dire in cuor tuo chi salirà in cielo questo significa farne discendere Cristo ovvero chi scenderà nell'abisso questo significa far risalire Cristo dai morti 8 ma che dice essa cioè cosa dice veramente la scrittura cosa dice veramente la parola di Dio dice la parola è presso di te uomo o donna uomo o donna la parola la parola di Dio è presso di te dice il verso è nella tua bocca è nel tuo cuore perché lo Spirito Santo è entrato in te ha preso la tua bocca la tua lingua per parlare ha preso il tuo cuore la tua anima per fare le cose per bene nei confronti di Dio affinché tu possa giungere alla vita santa retta e giusta è lo Spirito Santo che fa queste cose in te è Lui che ti trasforma è Lui che ti fa vivere una vita santa quindi nella tua bocca e nel tuo cuore c'è la parola di Dio poi dice ancora il verso questa è la parola della fede dice l'Apostolo Paolo che noi predichiamo benedetto l'ho dato il nome del Signore e noi oggi anche noi come Paolo possiamo dire questa è la parola della fede che noi predichiamo fede nel Signore Gesù Cristo che cos'è la fede è credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio è Dio stesso l'inviato di Dio credere che Lui ha lasciato il Suo Santo Spirito per noi lo ha inviato per stare con noi l'ha inviato per stare nella nostra bocca nel nostro cuore nella nostra bocca quando noi parliamo quando noi profetizziamo nel nostro cuore ha lasciato lo Spirito Santo per farci conoscere sempre di più la parola del Signore per farci comportare bene e per convertirci a Dio e vivere nella santità che Lui desidera quindi questo verso numero 8 è molto importante quindi non dobbiamo dire Dio è lontano chi andrà fino in cielo per trovare il Signore o chi può scendere nell'abisso per incontrare il Signore Signore è lontano no noi non possiamo dire così perché Dio è vicino a noi più vicino di quanto noi in realtà ci immaginiamo Lui è molto vicino a noi e lo Spirito Santo dice guarda che la parola di Dio Dio è presso di te la sua parola è nella tua bocca è nel tuo cuore e questo dobbiamo predicare questo è quello che noi predichiamo del Vangelo del Signore Gesù Cristo non è un Dio lontano non è un Dio che chissà dov'è e siccome è così lontano abbiamo bisogno di inviargli un messaggio tramite qualcuno attraverso un morto un santo una santa che sono morti allora noi diciamo porta questo messaggio al Signore siccome Lui è tanto lontano usiamo i santi o i santi no non è così perché Dio è vicino a noi è così vicino che dice che è nella nostra bocca che è nel nostro cuore benedetto il Signore il Signore si umilia fino a questo estremo e perché lo fa? perché ci ama e noi lo ringraziamo benedetto il Signore verso 9 cosa dice ancora l'Apostolo Paolo? dice poiché se con la tua bocca uomo o donna avrai confessato il Signore Gesù Cristo quindi l'Apostolo Paolo parlava agli israeliti di quell'epoca ai giudei stava parlando infatti dei suoi fratelli giudei dei suoi fratelli israeliti stava parlando anche ai gentili che si stavano convertendo al Signore e diceva la parola del Signore è nella tua bocca diceva gli israeliti ai giudei gentili è nel tuo cuore e dice nel verso 9 dice poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù Cristo diceva l'Apostolo Paolo al giudeo all'israelita diceva se tu avrai confessato il Signore Gesù Cristo cioè se tu avrai creduto nel Signore Gesù Cristo e dirai alle altre persone io credo che il Signore Gesù Cristo sia l'inviato di Dio sia quel messia che Dio parlò attraverso i profeti antichi io so che il Signore Gesù Cristo se voi dite così diceva l'Apostolo Paolo ai giudei se voi confessate con la vostra bocca tutto questo cioè se dite con la vostra bocca che c'è solamente un inviato cioè il Signore Gesù Cristo e poi dice e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato quindi dice se voi giudei o israeliti credete che il Signore Gesù Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno sarete salvati perché ci fu una grande polemica circa la risurrezione del Signore Gesù Cristo il terzo giorno infatti alcuni giudei pagarono dei falsi testimoni per dire che era una bugia che Gesù Cristo era risuscitato il terzo giorno dicevano che avevano pagato qualcuno per togliere il corpo dal sepolcro e portarlo in un altro posto quindi pagarono dei falsi testimoni per dire che non era risuscitato si fecero tante cose in quell'epoca che nemmeno sono state scritte e che nemmeno quindi ci immaginiamo e qui dice quindi che il Signore invece è risuscitato il terzo giorno e qui l'Apostolo Paolo voleva convincere i suoi fratelli giudei o israeliti dicendo loro se voi confessate cioè dite con la vostra bocca che il Signore Gesù Cristo è Dio stesso allora sarete salvati mentre l'Apostolo Paolo non dovete convincere i gentili dell'arrivo del Messia dell'arrivo del Signore Gesù Cristo in qualità di salvatore perché perché i gentili avevano sempre adorato degli dei dei demoni degli idoli delle statue ebbero tante credenze e tante superstizioni quindi loro erano già abituati a credere a qualcuno o a qualcosa mentre gli israeliti no loro credevano solamente alla legge di Mosè mentre i gentili credettero subito all'arrivo del Signore Gesù Cristo come Messia che poteva fare dei miracoli dei segni dei prodigi che era uno spirito che morì e che risuscitò il terzo giorno quindi i gentili credettero immediatamente loro non avevano metri di paragone con la legge di Mosè perché loro comunque cercavano degli dei e quindi credettero a questo Dio di cui l'Apostolo Paolo insegnava perciò il verso 9 è esclusivamente per coloro che non credettero che non credono e che non crederanno al Signore Gesù Cristo come il Salvatore come l'Inviato come il Messia per loro è questo il verso 9 e dice quindi ripeto se con la tua bocca avrai confessato oppure accettato e creduto nel Signore Gesù Cristo che è Dio che è l'Inviato di Dio e se nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato cioè ha risuscitato il Signore Gesù Cristo dai morti il terzo giorno allora sarai salvato qualsiasi religione che esiste nel mondo oggigiorno e che esisterà in futuro se non si sottomette a questo verso 9 allora coloro che crederanno in quella religione non si salveranno perché? perché devono riconoscere che Gesù Cristo è il Messia il Salvatore l'Inviato di Dio e che è l'unico cammino che porta alla vita eterna alla salvezza eterna pertanto non dimenticatevi questo verso 9 di Romani 10 quando voi sentite afflizioni nel vostro cuore leggete Romani 10 verso 9 e chiedete aiuto al Signore che vi insegni chiedete al Signore che entri nel vostro cuore nella vostra vita che vi usi che usi la vostra bocca che usi il vostro cuore e che dimori in voi questa è la cosa più bella quindi non dimenticatevi il verso 9 però il verso 9 nello specifico è per tutti coloro che hanno rifiutato che rifiutano e che rifiuteranno il Signore Gesù Cristo come il Salvatore che porta la vita eterna e se volete salvarvi se volete ottenere la vita eterna praticate il verso 9 in caso contrario la vostra religione sarà inutile verso 10 col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza quindi cos'è che noi stiamo facendo? noi crediamo noi crediamo nel Signore nel mio cuore c'è Dio io voglio fare opere buone voglio fare la volontà del Signore se così è allora otterremo giustizia da parte di Dio e otterremo la vita eterna perché lo stiamo cercando con tutto il cuore ma quello che c'è nel mio cuore e nel mio essere lo devo far uscire devo dire che Dio è l'unica verità devo dire che Dio e lo Spirito Santo esistono che fanno miracoli che è nella mia vita che il Signore ha fatto prodigi segni che mi parla attraverso sogni visioni profezia rivelazioni che Lui si manifesta nella mia vita dobbiamo confessare tutto questo cioè dobbiamo parlare di questo dobbiamo predicare di questo con la nostra bocca questo significa confessare tramite la nostra bocca che il Signore Gesù Cristo esiste così che anche gli altri si possono salvare undici perché la scrittura dice chiunque crede in Lui non sarà svergognato quindi l'undici dice chiunque crede il Lui nel Signore Gesù Cristo come il Messia non sarà svergognato poiché non c'è distinzione fra il Giudeo e il Greco perché uno è il Signore di tutti ricco verso tutti quelli che lo invocano quindi dice che non c'è differenza tra Giudei greci gentili perché il Signore è uno per tutti Lui è uno per tutti coloro che lo invocano tredici infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato ma invocare il Signore non significa dire in un momento di pericolo Signore Signore aiutami salvami no invocare il nome del Signore significa credere in Lui fare la Sua volontà avere Dio nel cuore avere lo Spirito di Dio in noi avere piena fiducia in Lui e fare la Sua volontà e i Suoi comandamenti questo significa invocare il nome del Signore quindi invocarlo col cuore con la nostra ubbidienza totale col compiere i Suoi ordini i Suoi comandamenti insomma fare la volontà di Dio completamente questo significa invocare il Signore non solamente dire Signore Signore perché infatti gli Apostoli ci lasciavano questo esempio dicendoci anche i demoni credono e dicono Signore Signore per esempio le persone che vanno dai medium dicono che quei medium hanno la Bibbia aperta certo profanando il Signore in quel modo ma lo fanno per ingannare le persone e quindi il diavolo si avvale di questo ma anche il diavolo crede nella Bibbia anche il diavolo crede che esiste Dio perché è nemico del Signore quindi per forza che gli crede che esiste quindi la questione non è tanto di parlare parlare ma compiere con il cuore la volontà del Signore questo è il significato del verso 13 che dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato ma invocare il nome del Signore significa vivere nel cammino del Signore e si salverà perché avrà creduto nel Signore perché avrà vissuto con Dio e Dio abiterà nel suo cuore nella sua vita e così smetterà di pecare e il giorno in cui morirà andrà alla vita eterna perciò non vi ingannate dicendo che qui basta invocare il Signore e dire Signore Signore in un determinato momento e dire io peccherò godrò della mia vita sì e il giorno in cui io morirò invocherò il Signore e lì otterrò la vita eterna lo invocherò nel giorno della morte e gli dirò ah Signore abbe misericordia di me Signore perdonami no se fate così vi state ingannando Dio non guarda questo comportamento non lo tiene in considerazione se voi parlate l'ultimo momento della vostra vita dopo che avete vissuto una vita disordinata invocare il nome del Signore significa vivere una vita con Dio questo è quello che voleva parlare l'Apostolo Paolo quindi invocare il nome del Signore significava anche credere che il Signore Gesù Cristo era l'inviato di Dio e in quell'epoca tante persone non volevano credere che il Signore Gesù Cristo era lo stesso Dio che è il datore della vita eterna e anche oggi è così ci sono persone che dicono no io credo solamente in Dio Padre ma nel Signore Gesù Cristo no ma qui lo dice chiaramente chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato 14 come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto quindi se una persona non crede nel Signore Gesù Cristo come può invocarlo se non hanno creduto in Lui e come crederanno in Lui come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare cioè se non hanno mai sentito parlare del Signore Gesù Cristo come potranno credere in Lui e come udiranno se non c'è chi predichi quindi come invocheranno il Signore come gli crederanno e come lo udranno se non c'è chi gli crede chi lo predica poi dice nel verso 15 e come predicheranno se non sono mandati poi qui fa un riferimento ad un verso della Bibbia come sta scritto quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace che annunziano buone cose come dice Isaia capitolo 52 verso 7 quindi come sono belli i piedi di coloro che predicano il Vangelo di coloro che annunziano buone cose che annunziano il precursore il Salvatore colui che conduce alla vita eterna queste sono le buone cose annunziate dai piedi degli inviati del Signore Gesù Cristo quindi gli inviati sono gli apostoli e gli apostoli come l'apostolo Paolo predicavano predicavano il Signore Gesù Cristo loro hanno visto le meraviglie di Dio ecco perché hanno predicato erano sicuri di quello che stavano dicendo quindi l'apostolo dice Dio fa una chiamata Dio dà sostegno Dio invia una persona dà sostegno a quella persona affinché quella persona predichi ad altre persone quelle si possono convertire a Dio questo è quello che dice l'apostolo Paolo nei versi 14 e 15 verso 16 ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo diceva l'apostolo perché Esaia dice infatti la profezia di Esaia dice Signore chi ha creduto alla nostra predicazione infatti in Esaia 53 verso 1 dice il profeta Signore chi ha creduto alla nostra predicazione a tutto quello che abbiamo annunciato a tutto quello che abbiamo raccontato del Messia del Salvatore chi ha creduto pochi pochi hanno creduto in te Signore e nel verso 17 continua l'apostolo Paolo a dire la fede dunque viene dall'udire udire la parola di Dio infatti Dio invia i suoi messaggeri i suoi profeti a predicare e insegnare la buona novella di salvezza alcuni hanno ascoltato la parola alcuni hanno udito quelle predicazioni e nell'udire quelle predicazioni hanno creduto e nel credere è arrivata la fede infatti dice l'udire viene dalla parola di Dio 18 ma io dico l'apostolo dice non hanno essi udito anzi la loro voce quella degli apostoli è corsa per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo e infatti nel Salmo 19 verso 4 il Signore diceva che gli apostoli erano andati per tutta la terra ad annunciare la parola del Signore fino ai confini del mondo gli apostoli stavano annunciando la parola del Signore e insieme agli apostoli il Signore inviò i profeti inviò gli evangelisti i maestri o le maestre o i predicatori i pastori il Signore inviò tutti loro a predicare la buona novella di salvezza e le persone che avrebbero ascoltato tutte queste parole avrebbero creduto e accettato il Signore Gesù Cristo nel loro cuore ecco il Signore voleva insegnare quindi attraverso gli apostoli un nuovo metodo per salvarsi e quindi ci si poteva salvare in un nuovo modo non bisognava quindi fare tante cose materiali come nella legge di Mosè compiere tante regole fisiche e materiali proprio come nella legge di Mosè ma solamente con l'udire la parola del Signore potevano arrivare la fede e la credenza nel Signore e quando si crede arriva Dio nel cuore che dimora insieme a me entra lo spirito di Dio del Signore e Lui comincia a trasformare la mia vita comincia a cambiarmi e io comincio a compiacere il Signore comincio a lodarlo a glorificarlo e allora da quel momento in poi Dio dice allora adesso ti darò i doni spirituali affinché tu possa imporre le mani per esempio affinché tu abbia il dono di profezia dei sogni delle visioni pertanto il Signore comincia a manifestarsi con questo nuovo metodo di salvezza che è il Vangelo del Signore Gesù Cristo tutto questo è il Vangelo del Signore Gesù Cristo e qui l'Apostolo Paolo sta dicendo il Signore ha inviato noi Apostoli a predicare e nel verso 19 cita una frase di Mosè che già aveva anticipato la profezia del Signore e il Signore infatti tramite Mosè disse per primo io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione quindi questa fu la profezia di Mosè profezia nella quale il Signore Gesù Cristo diceva io vi muoverò a gelosia voi israeliti cioè voi israeliti sarete gelosi di una nazione che non è nazione vi provocherò sdegno per una nazione stolta vuol dire che questa nuova nazione stolta erano i gentili e gli israeliti sarebbero stati gelosi dei gentili che avrebbero ricevuto il Vangelo però il proposito del Signore era quello di formare un solo popolo formato da israeliti giudei gentili perché il Signore è uno solo e questo accadrà perché questa è una promessa del Signore verso 20 Isaia arditamente dice io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano quindi anche Isaia fu un profeta che disse a proposito del Signore Gesù Cristo io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano cioè dai gentili non mi volevano non mi cercavano ma hanno creduto subito in me e poi dice ancora il verso mi sono manifestato infatti a quelli che non chiedevano di me cioè mi sono manifestato ai gentili che non cercavano il vero Dio perché avevano già i loro dei tuttavia quando si comincia a predicare la buona novella di salvezza i gentili ascoltano la parola dell'Apostolo Paolo ascoltano la parola di Dio e l'apprezzano e si convertono subito alla parola del Signore poi gradualmente si convertirono anche i fratelli giudei o gli israeliti verso 21 dice ma riguardo ad Israele dice tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente e infatti questa è una frase del Signore Gesù Cristo menzionata in Isaia capitolo 65 verso 2 qui il Signore si lamentava del suo popolo dicendo tutto il giorno cioè per tanto tempo ho steso le mie mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente il Signore Gesù Cristo quando stette sulla terra a predicare gli israeliti rigettarono di continuo la parola del Signore dicevano sempre cose sgradevoli nei confronti del Signore non credevano alla predicazione del Signore Gesù Cristo nel suo messaggio però il Signore lasciò i suoi apostoli dicendo continuate a predicare il mio nome continuate a predicare la mia parola ai giudei e ai gentili perché io da loro formerò un solo popolo perché anche i gentili mi crederanno e noi oggi la maggior parte di noi ci consideriamo provenienti dal popolo dei gentili abbiamo creduto nel Signore abbiamo creduto nella Sua parola abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo come l'unico cammino come il pastore divino che ci pascola e che ci porterà alla vita eterna che ci aiuterà a cambiare e che ci aiuterà a vivere una vita santa e ci darà sostegno quando dovremo aprire la bocca per predicare per insegnare la Sua parola Lui starà sempre con noi e noi come dico io sempre conquisteremo tante anime per il regno di Dio questo è il nostro lavoro è il compito che il Signore ci ha lasciato oggi noi oggi abbiamo questo compito meraviglioso apparentemente sempre difficile ma è molto bello noi dobbiamo predicare predicare all'umanità che esiste un Dio vivente questo è quello che noi dobbiamo fare predicare la Sua parola predicare la parola di fede e noi oggi predichiamo questo predichiamo il Signore Gesù Cristo perché Lui è Dio è la manifestazione di Dio in Lui e io vi invito a continuare a leggere la Bibbia leggete la Bibbia e disponete il vostro cuore per Dio disponete il vostro cuore a Dio desiderate con tutto il vostro cuore compiacere il Signore fare la Sua volontà siate umili siate sinceri ricordatevi che con la guerra non possiamo risolvere i problemi non si può ottenere la pace tramite la violenza non possiamo fare nulla anzi si genera ancora più violenza mentre l'amore la pazienza la semplicità la sincerità e acclamare il Signore è l'unica cosa che ci può aiutare non vi angosciate per tutte le cose che stanno accadendo oggi colpevolizzando gli uomini e le donne nessuno ha colpa perché dicono a volte il colpevole è quel governante è quel re è quel sindaco lui è il colpevole no nessuno ha la colpa tutti noi abbiamo la colpa tutta la società ha colpa perché? perché ci siamo allontanati da Dio e ci siamo dedicati a fare il male ecco perché succedono tutte queste cose nel mondo la violenza la miseria i disastri perciò amiamo Dio invocatelo cercatelo cambiate il vostro modo di cercare il Signore e vedrete che vivete in pace e in felicità ricordatevi che tramite la guerra non si risolve nulla anzi la violenza porta altra violenza il male porta al male quindi cercate Dio è giunto il tempo di cercare il Signore perché l'umanità si è allontanata da Dio ogni giorno sempre di più gli uomini e le donne si allontanano da Dio e nel mondo succedono cose orribili cose illecite che mai avevamo sentito e oggi l'umanità si inventa tante cose per sgradire il Signore e Dio si arrabbia e invia gli elementi della natura contro di noi questo è quello che fa il Signore e allora cos'è che diciamo poi alla fine no Dio è troppo severo ma non è così dobbiamo stare attenti a non bestemmiare contro Dio a non offenderlo credete nel Signore e vedrete che se voi siete sinceri con Dio troverete un Dio di amore e un Padre nella vostra vita preghiamo benedetto Dio Onnipotente Padre Celeste Creatore dei Cieli della Terra il nostro proprietario tu che hai creato il primo uomo sulla Terra e la prima donna sulla Terra Adamo ed Eva e tu Signore ti sei manifestato all'umanità ti sei manifestato con tanti benefici con tante benedizioni però ci hai anche insegnato attraverso tanti esempi attraverso tante illustrazioni e ci hai insegnato che tu hai una mano ferma e dura per gli stolti per i ribelli per i duri di cuore per tutti coloro che vogliono vivere nei loro capricci nelle loro ire Padre Santo tu ci hai insegnato questo cammino ci hai mostrato con tante illustrazioni e con tanti esempi di come si possono ottenere le benedizioni tramite i vissuti di tanti personaggi biblici abbiamo anche capito che tu sei un Dio di misericordia di amore ma anche di rigore perché tu sei un Dio anche se vero sebbene noi vogliamo non un Dio come un fuoco consumante ma un Dio di amore e per ottenere un Dio di amore sappiamo che dobbiamo essere dei figli buoni giusti retti davanti a te affinché tu ci possa benedire e possa ascoltare le nostre preghiere ogni volta che noi ci rivolgiamo a te e ci presentiamo a te grazie Signore grazie mio Dio tu sei il nostro Padre e la tua mano potente è su di noi tu Signore poni la tua mano potente sui governanti di tutto il mondo per aiutarli a governare e tu Signore ti mostrerai così alle persone insegnerai rivelerai la tua esistenza all'umanità e io so che tutto questo lo farai per amore per misericordia dell'umanità Padre mio aiutaci perché vogliamo fare la tua volontà vogliamo compiacerti ma vogliamo anche sentire costantemente la tua presenza nella nostra vita benedetto l'ho dato il tuo nome nei secoli dei secoli il tuo amore è così grande la tua misericordia per sempre le tue promesse sono fedeli e veraci e tu ci hai fatto tante promesse nella nostra vita e noi crediamo che queste promesse si compiranno grazie per il tuo amore per la tua misericordia grazie per la tua mano potente che ci benedirà e che benedirà tutti coloro che veramente si dispongono per te che dispongono il loro cuore per fare il bene grazie Padre Santo grazie Signore nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo figlio amato inoltre Signore ti chiedo in questo momento di stendere la tua mano potente di fare prodigi miracoli segni ti chiedo di guarire ti chiedo di liberare tante persone perché tante persone sono malate e sono anche in ospedale oppure sono malati in casa ti chiedo Signore che tu possa guarirli perché loro ti hanno acclamato in preghiera perciò ascolta le loro preghiere e le loro suppliche mostrati Signore mostra la tua esistenza il tuo potere guariscili perché noi Padre Santo predichiamo di te raccontiamo di te ma sei tu che fai miracoli e segni perché il potere è nelle tue mani Signore non nelle nostre Padre mio ti chiedo inoltre di liberare tutti coloro che sono schiavi di maledizioni di stregonerie e di malocchi riprendi perciò questi spiriti impuri che tormentano tante persone come gli anziani come i bambini liberali Signore e togli questa schiavitù del maligno distruggi tutta l'opera del male libera e pulisci ognuno di loro Padre Celeste benedetto il tuo nome Signore grazie Signore per ascoltare la nostra preghiera per ascoltare le nostre suppliche grazie Signore perché ci guardi e ci proteggi tu sai Signore che ti amiamo ti lodiamo ti diamo l'onore la gloria e la lode tutto questo Signore te lo abbiamo detto nel nome di Gesù Cristo tuo figlio amato grazie Signore la gloria sia per te da adesso e per sempre Amen benedetto il nome del Signore adesso cantiamo il coro 170 solo Dio rende per i get ridi la gloria anche per te solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios puede hacerte feliz solo Dios puede hacerte feliz la vida es nada todo se acaba solo Dios puede hacerte feliz l'onore e la gloria siano per Dio che il Signore vi benedica tutti grandemente tanti abbracci tanti baci per i bambini vi amo con tutto il mio cuore a presto a presto